Davvero ragazzi, diciamo che sono incassato, sono incassato perché fino a 7 minuti alla fine non stavano a perdere 2-1 contro l'Inter, loro in 10, loro in 10 e noi in 11, non riuscivamo proprio a, come ho sempre detto, io è inutile che mi ripeto, mi ripeto, mi ripeto, poi abbiamo vinto perché in campo è entrato Kulovic, ma più che altro, Spalletti ci ha dato una mano, ha levato i guardi, i guardi, sapete, gioca alto, l'Inter è scesa e noi siamo saliti, ecco lì che noi siamo riusciti a segnare, perché la Juve, come ho detto, solo se è costretta e magari ha un modo per poter cercare il gol del vantaggio, deve trovare la situazione, la situazione deve trovare, perché se no non ce la facciamo, la Juve era frenata, loro in 10, noi in 11 si siamo fatti recuperare, recuperare, sorpassare e poi meno male a Spalletti che alla fine, 15 minuti alla fine, 10 minuti alla fine ha tolto i cardi perché la mentalità italiana degli allenatori è questa, è normale che quando tu te levi un attaccante e metti un difensore, che succede? Succede che la squadra si abbassa e pigol, pigol, pigol perché siete i tacchini, voi dell'Inter, l'allenatore nostro è un tacchino, è un pollo, ecco il gergo, e noi abbiamo approfittato, ma approfittato perché? Perché è normale, perché la Juve fino a che non uscì le carri, la Juve faceva il giochetto del cazzo come al solito, non riusciva a essere pericolosa, non riusciva a essere pericolosa, esci le carri, la Juve è salita, l'Inter ha allenato, ecco lì che abbiamo trovato i due gol, due gol. Sono contento perché contro l'Inter sono sempre contento, l'importante è rompergli il culo degli interessi, perché io sono felicissimo per quel motivo, basta di rompere il culo a questi, anche se Acciuga mi sta sul cazzo, fa un gioco di merda, però con l'Inter dopo tempo è invece, perché non li sopporto, non li sopporto, perciò, però il problema rimane, perché fino a sette minuti alla fine tu hai fatto schifo, loro in dieci e noi in undici ci stavano rompendo il culo e questa è la cosa che mi fa incassare, questa è la cosa che mi fa incassare, perciò io spero e prego che questo cazzo di allenatore lo mandano via, non me ne frego un cazzo perché vinciamo, deve andare via, deve andare via, deve andare via, deve andare via, perché la Juve stava a fare schifo, stava a fare schifo, stava a fare schifo, 11 contro 11, noi questa partita non la vincevamo mai, mai, non l'avremmo mai vinta, mai, 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 perciò è quello che dico io, proprio la mentalità, lui è stato costretto, era costretto e doveva cercare da spingere, ma perché non spingi prima, loro in dieci, porca puttana troia, loro in dieci, loro in dieci, sempre fa il solito gioco del merda, il solito gioco del cazzo, il solito gioco che ti fa incassare sempre, ti fa sempre incazzare il cazzo, ti fa incassare, ti ho detto, questi giocatori sono diventati dei brocchi, sono diventati dei brocchi, giocatori che sembrano brocchi come gioco, sembrano brocchi, perché non hanno schemi, niente, è una squadra votata all'attacco, quando cerca di attaccare diventa forte, ho sempre detto, quando si difende diventiamo pippe, amministriamo il gioco, amministri, amministri, che cazzo amministri, gioca, giocatelo sti cazzo di partita, testa di cazzo, giocati, attacca, rischiatelo uguale, porca puttana, quello vedi che era in dieci, difendevi uno a zero con loro in dieci, ma devi ammazzare i devi deficienti, questa è la mentalità di questi cazzo di allenatori, devi ammazzarlo, stanno in dieci, usciti, lo devi proprio uscito, lo devi ammazzare, due, tre, quattro gol, i massacri, così, invece no, fai ripiati, fai pure sul passato, coglione, poi è entrato il culo e dice, è mi risultato la partita, però non saremo più, non saremo più, non saremo più, non saremo più, avete queste partite da schifo, non saremo più, non saremo più, ma dice, è mi ha vinto, e tu perché guardi il risultato, tu vuoi il tifossetto del cazzo, io ci fai lì perché guardate il risultato, è mi vinto 3 a 2, è mi vinto, hai visto, è mi ha vinto, ma fino a 7 minuti alla fine non guardavi, è mi ha vinto, te stavi a incazzare, stavi a smadonnare, testa di cazzo, a te te lo dico, testa di cazzo, a te te lo dico, testa di cazzo, vabbè, ma tanto di che parli, è inutile parlare, loro i partiti, le vedono a moto, le vedono solo la vittoria, però come è avvenuta la vittoria, come abbiamo giocato, fino a che loro in dieci, addirittura, si stavano a mettere sotto, se può dire, si stavano a mettere sotto, eh, no, è inutile, è inutile, è inutile, è inutile, è inutile, fatemi il cazzo del foro, mandatevi a salinatore, ve lo prego, ve scongiuro, mandatelo via, mandatelo via, mandatelo via, ma io, ragazzi, se continua a stasso allenatore, il prossimo anno non farò, non ne faccio più video, parlerò di tutte le altre squadre, parlo dell'Inter, del Napoli, del Mila, ma della io non ne parlo più, perché fino a che ci stassi allenatore, io non ne parlerò mai più, io spero che a fine anno lo cacciano via, lo mandano via, battere in qualche altra squadra, ma battere via, nella io tu non ci puoi stare, non è per te, non è per te, difensivista del cazzo, cagon di merda, ciao.